ultima ma non ultima novità oggi in edicola sono della maxi edition i dark sea and co esseri del mare giganti crystal e crunchy per cui saranno morbidosi con la consistenza un pochino strambetta esatto allora ci sono dentro le classiche bustone perché sono quelli maxi e le buste sono proporzionate questi esseri del mare mamma che grande è questo sono 12 soggetti eccoli qua alcuni un paio si illuminano al buio e sono da scoprire questi bellissimi mostri al tasto come al solito ci sono i classici libricini illustrativi dove viene descritta la raccolta e ci sono dei consigli non sono 12 ho sbagliato è scritto solo in gigante ma sono 15 enormi creature del mare da collezionare e il prezzo per ognuna è di 3 euro e 50 la nuova collezione ti aspetta alla pegaso e quindi